Un incontro di terza serie, tre round da tre minuti, categoria 75 kg. Signori, un grande applauso all'angolo blu per la Boxing Functional Training. Cittadini Stefano! Un incontro di terza serie, tre round da tre minuti, categoria 75 kg. Un grande applauso all'angolo blu per la Boxing Functional Training. Un incontro di terza serie, tre round da tre minuti, categoria 75 kg. Siamo pronti per cominciare questo incontro, primo round! Siamo pronti per cominciare questo incontro! Siamo pronti per cominciare! Siamo pronti per cominciare questo incontro! 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 Cominciare questo incontro! Siamo pronti per cominciare questo incontro! Cominciare questo incontro! Siamo pronti per cominciare questo incontro! Cominciare questo incontro! Siamo pronti per cominciare questo incontro! Siamo pronti per cominciare questo incontro! Per cominciare questo incontro! Siamo pronti per cominciare questo incontro! La sc 01. Siamo pronti per con loro! Siamo pronti per cominciare questo incontro! Stanno pronti per cominciare questo incontro! Sì? Giante! Propcasso! E' ancora pronti periece! Tipo unma problema! Fines, seconda ripresa 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 Fines, thirda ripresa Grazie!